Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa con più ombra ho cercato di fare più o meno la divisione dei terzi. Qui c'è una finestra, qui c'è un'altra finestra, basso un'altra, qui c'è un'altra. Allora, la mia formazione di composizione sarà questa, questo triangolo più interessante. Questa finestra, questa e quella, con l'ombra che viene giù, fa la formazione di un triangolo. Il resto sono dettagli che non interessano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto ci sarebbe interessante lasciare il piede orizzontale. Grazie a tutti. 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 Abbiamo uno scherzo di progetto, una idea del progetto, il dipinto di una forma generale. Grazie a tutti.